ciao a tutti e bentornati su cucine benessere oggi parliamo di buone abitudini mattutine ognuno di noi ha le sue routine mattutine tra le più varie tra cui non fare colazione ovvero un caffè uscire di casa non è proprio il modo migliore di iniziare la giornata non esiste un metodo giusto sbagliato ma una routine diversa per ognuno di noi quello che vi propongo oggi è la mia routine non è stato semplice e ancora oggi ho molta strada da fare ma alcune cose le ho fatte mie il mio fisico ormai le richiede in automatico prima cosa appena svegli bere un bicchiere d'acqua considerate che l'ideale sarebbe berne almeno mezzo litro è difficile lo so diciamo che appena alzati bere un bicchiere d'acqua non è proprio il top soprattutto d'inverno per questo motivo di inverno vi consiglio di scaldarla un pochino all'inizio dovevo anch'io forzarmi appena alzata di bere un bicchiere d'acqua mentre ora mi sveglio e ho sete quindi in automatico mi alzo e devo assolutamente bere l'acqua è molto importante bere appena alzati perché durante la notte non abbiamo bevuto mai logicamente e il nostro corpo si è disidratato inoltre ha tanti altri benefici come eliminare le tossine aumentare il metabolismo prevenire i calcoli renali e bruciori di stomaco dopo aver bevuto non mangio subito in modo che l'acqua possa operare al meglio quindi arriviamo al punto numero 2 fare stretching dopo tutta la notte a letto ci svegliamo che siamo un po rigidi magari non sembra quindi vi invito a provare a fare un po di stretching e poi ne riparliamo io mi annoio a fare il solito stretching quindi faccio una pratica yoga il saluto al sole iniziando però con un po di stretching per il collo e la cervicale a volte questo tempo mi è utile perché intanto che faccio il saluto il sole la macchina del pane mi prepara la mia colazione faccio il porridge e quindi quando finisco la colazione è pronta punto numero 3 fatto lo stretching beva ancora acqua e faccio le cose di casa oppure mi preparo con l'acqua che ancora lavora punto numero 4 finalmente faccio colazione cosa mangiare a colazione qui bisogna evitare di mangiare quegli alimenti che fanno alzare molto la glicemia ad esempio mangiare brioche cappuccino è una colazione buonissima però ci fa innalzare l'indice glicemico ma ci porta ad un picco glicemico cosa significa che dopo poco avremo di nuovo fame logicamente passare da una brioche a magari una crema di riso è un saltone io l'ho fatto perfetto anche perché dobbiamo evitare al nostro fisico dei shock se fino al giorno prima ci ingozzavamo dei passarelli da un giorno all'altro smettiamo il tuo fisico ti dirà ma che cippa stai facendo dove sono tutti quegli zuccheri che mi dai fino a ieri mal detto una buona soluzione potrebbe essere quello che vi ho detto prima il porridge che rimane comunque un po dolce e inoltre potete metterci dentro tutto quello che volete io lo faccio con il latte di riso integrale ma potete utilizzare anche il latte di mandorla che è più dolce o il latte di avena potete aggiungere frutta secca uva sultanina la frutta di stagione quindi proprio frutta fresca e per la vostra golosità potete anche metterci un pezzettino di cioccolato fondente che non guasta mai mangiare cibo a lento rilascio di zuccheri e quindi mangiare fondamentalmente carboidrati ti fa arrivare a merenda senza avere il buco allo stomaco e inoltre avere sicuramente più energia provate per credere la scusa classica per evitare di fare tutto questo alla mattina e non ho tempo e perché la mattina sono sempre di corsa anche questo è stato uno dei grossi ostacoli che ho comunque dovuto affrontare perché a me piace dormire stare nel letto e soprattutto d'inverno sotto le coperte come fare buona volontà ragazzi bisogna svegliarsi prima quanto basta per fare tutto poi diventerà un'abitudine a cui non potrete rinunciare perché vi sentirete molto molto meglio siamo arrivati alla fine del video lascia un like e se ti è piaciuto iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video ci vediamo alla prossima ciao